Fondamentalmente quando abbiamo visto il premier non è eletto da nessuno La Costituzione si può anche cambiare, per l'amor di Dio, il Movimento 5 Stelle ha sempre pensato di poterla cambiare inserendo degli strumenti di democrazia diretta, l'obbligo di discussioni delle leggi di iniziativa popolare in Parlamento Un referendum propositivo anche senza quorum, o comunque con un quorum più basso, per ascoltare i cittadini Pensate che hanno fatto questo? Assolutamente no Il Partito Democratico ha preso meno voti del Movimento 5 Stelle I costoro hanno cambiato la Costituzione da soli Quello imborso elettorale che il Movimento 5 Stelle non tocca Pensate che il Senato è stato abolito? No, il Senato resta, sono stati aboliti i cittadini che votano Il rimezzamento delle diarie, che sono 10.000 euro l'ordi oggi, ha deputato il senatore Ci hanno dato lo zuccherino del bonus 80 euro e poi hanno fatto il Jobs Act che ha distrutto di fatto il lavoro E mi raccomando studia eh